Fun! Numbers! Yo! Che stai facendo laggiù, amico? Oh, questo! Ho appena finito il mio prossimo video! Questo potrebbe essere il migliore di tutti! Oh, davvero? Ti dispiace se lo carico sul mio Instagram e non ti cito? Ma che c***o certo che mi dispiacerebbe! No, non puoi farlo! Grazie, caro! Il tuo duro lavoro mi farà fare così tante visual! Amico, ho detto di no! Facciamo visualizzazioni! Oh, sì! Facciamo un po' di soldi! Oh, sì! Non citiamolo! Oh, sì! Ho detto di no! Nani? Tu... hai preso tutto ciò che avevo! I miei video! I miei scritti! Quindi io... mi prenderò la tua vita! E questo... 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 Johnny! Johnny! Mi dispiace, Johnny! Tua madre non ce la farà! Non abbiamo abbastanza fondi per curare la sua eligma! Ma mira! L'unico modo per salvarla è ottenere altri introiti pubblicitari dal tuo Instagram! Lo farò! Sai che cosa significa, non è vero? Non ha più importanza! I suoi video! Li ruberò tutti fino all'ultimo! È la verità! Ho preso i tuoi video e li ho ricaricati sul mio profilo personale! Ma non mi importa di cosa pensi! Ne mi importa di cosa farai! Non cercare di fermarmi! Farò qualunque cosa per salvare la mia mammina! Anche se... Dovessi rubare tutti i tuoi video fino alla fine dei tempi! Non rubare i miei video! Sono i miei video! I miei! Ciao ragazzi! Se anche questo video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel polliciazzo su e lasciate un commento qui sotto! Ma ora passiamo ai salumi! Allora io che sono Max ci tenevo a salutare Magma Luke! Ciao Magma Luke! Quando vuoi vieni a giocare con me a Fortnite! Io che sono Hawk ci tenevo a salutare Tom Stone! Ciao Tom Stone! Mi raccomando se vuoi venire con me in viaggio devi sorvirti anche tu Ash! Ciao io sono Pikachu! E volevo salutare Daniele Zanaga! Ciao Daniele! Ti prego! Aiutami a scappare da Ash! Ciao io sono Vegeta! E ci tenevo a salutare Lionel Channel Skip! Ciao Lionel! Big Bang Attack!